No, mamma di Dio, siamo peggio l'anno passato, un'opola siamo peggio l'anno passato, non mi ha cagliato proprio niente, va a morire una marrona, la difesa va sempre abbagando come l'anno passato, perché la difesa l'anno passato, un centrocampo che non mi ha pigliato a Della Fione, mi ha pigliato a Chris, mi ha pigliato a chi l'altro, e siamo, e non mi ha detto che ci devono a chi l'anno passato, magari l'anno passato mi ha fatto quattro posti, ma non facevo manco un nuovo posto. Ho fatto quattro o cinque acquisti e di meno un nuovo compagno acquistare, più scazzare la compagna acquistare, fa sempre un nuovo compagno. Si vede che l'intervento era più bello, come Milano, a Roma, l'intervento, ma come campagna acquistare un nuovo compagno, fino a ora, come doppia, era una pigliata, ma è nascita. No, questo è un po' che ciò buona riunione sulla pigliata l'anno, secondo me si è giocato un po' per l'anno, ma solo l'anno, pure slight, tutto quanto. Comunque sanno che non faremo quello che mi ha fatto, non facciamo manco che ci fosse. Facciamo proprio una brutta fina, noi ci dice il signor Presidente, il signore dell'Aurendis, accattò minimo, prima che finisci qua ci mette, minimo accattò quattro o quattro ore. A destra, non c'è nessun po' che ci sono, ma non c'è nessun po' che ci fanno più. A sinistra, è un po' che voglia una ruota, che non c'è nessun po' che ci fosse, ma è buono più quanto a lei, non c'è una squadra che vuole conto un'opera, se tu voglia uno per morire. Non morirà, ma non esiste. Dopo la sinistra era niente, a destra era niente, e non c'è nessun po' che non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, allora, a me si è che si è buono perché l'ora sono a mezz'ala, allora, mi ha lasciato a me si è che, allora l'ora che è buono, a me si è. Io vorrei dire quattro ore in Napoli, per faremo un po' che non c'è, non c'è nessuno, e non c'è nessuno, se c'è nessuno, cinquattro ore non si rubava niente, non so solo quattro ore, non c'è nessuno, non c'è nessuno, e noi siamo una grande squadra, internazionale, e mi ha fatto i figuri in me, dicevo cominciamo la prima partita, e poi prima Roma, prima io, ma io a pezzicare se l'ho portato, a Roma fanno pari su ogni molti panni, da una squadra, ma non c'è nessuno, e poi, fischi che per noi c'è la ricetta fa, ma c'è nessuno, a cambiare tempo, se senza c'è nessuno, non so perché se non andò a Bordeaux, se non andò a Bordeaux, se vengono, rimandano, e si mancano pure a Cabbia Dino, che Cabbia Dino, è un grande Uguadoro, e non si rende conto, è un Uguadoro più forte italiano che da Cabbia Dino, come italiano, e ora ci potiamo pure a Cabbia Dino, che alle conne, gioca senza c'è, tutti ci fostriuti, ma perché la palla è molto forte, quello è un uguardo forte, perché la palla che c'è la taccatura, è un uguardo, e trova senza c'è, allora, piglio su Uguadoro, e finno a te, quando la pigliano, vantano l'unicello, vantano l'unicello, e fassi vantano l'unicello, fa una bella squadra, piglio quelle cose, e poi vantano, perché Uguadoro e quelle cose, stanno senza c'è nessuno, perché l'America se ne vanno pronto, perché noi non ci meritiamo, che questi tifosi qua, la prima partita, Jay Fish, che lo chiamano qua, mi ha cominciato male a me, non è che poi c'è l'unicello, vantano l'unicello, vantano l'unicello, vantano l'unicello, vantano l'unicello, proprio quella coppia, che questa squadra coppia, è una squadra che si raseva, si rivegottava, di tutta maniera, facendo i campi, di pensare attacchi, l'attacco a destra, non doveva nessuno, allora, i guadini, mettenze, insegni, tutti i tre vicini, non sapevano qua, non sapevano qua, ma insigne, non è cosa, possono stare assieme? no, giocano l'uno, o giocano l'altro? fanno i guadini tutti insieme, allora, tu metti uno a destra, hai nel destra di due le scivoli, vanno tutti tre cercati vicino, non puoi mettere uno, allora, che ha fatto questo? ha messo, ha messo, un po' vicino ai guadini, e insegni un po' carico, non ci siamo bene, non andiamo proprio bene così. Ok, Gennaro, vai alla prossima facciamo, o mettere i guadini, o mettere i guadini, vicino ai guadini, a questo li andiamo bene. Vai. Ok, saluti i tuoi fans, Gennaro. Saluti solo una cosa, spero che i miei fans, tutti i miei fans, spero che facciamo una cosa, se sei male, perché io sennò, facciamo un figlio di merda a tutte le parti, sembra solo una storia, è diversa, è solo una storia. Ok, Gennaro. Ciao, ciao.